La fiction Lea Un Nuovo Giorno è una delle novità del palinsesto televisivo Rai. Si tratta di una serie di genere drammatico medico che vede Anna Valle interpretare i panni di Lea Castelli, un'infermiera che lavora in un reparto pediatrico. La fiction debutterà proprio oggi, 8 febbraio 2022, in prima serata su Rai 1. Ecco tutte le curiosità sulla trama della serie e sul cast. Lea Un Nuovo Giorno, anticipazioni e trama Lea Un Nuovo Giorno porterà i telespettatori alla scoperta della vita di Lea Castelli, infermiera in pediatria all'ospedale di Ferrara. Lea si porta alle spalle diversi traumi. Ha perso un bambino all'ottavo mese di gravidanza e dopo ha scoperto, suo malgrado, di non poter avere più figli. In più è reduce dalla fine del suo matrimonio. Nonostante tutto ha deciso di riprendere a lavorare, prendendosi cura con amore dei piccoli pazienti a lei affidati che costituiscono per lei una vera famiglia. Purtroppo però il primario del reparto in cui è inserita è proprio l'ex marito, Marco Colomba. Ogni giorno quindi Lea è a contatto con quello che credeva essere l'uomo della sua vita. Come se non bastasse quest'ultimo si è già trovato una nuova compagna, Anna, ginecologa dello stesso ospedale. Per fortuna l'infermiera potrà contare sul supporto delle colleghe Rosa Nibbi, Favilla Mancuso, Olga Francesio e Michela Idiong. Inoltre Lea inizierà a nutrire interesse per Arturo Minerva, musicista padre single di una piccola paziente. Lea Un Nuovo Giorno, numero di puntate e location. Lea Un Nuovo Giorno andrà in onda ogni martedì in prima serata su Rai 1. La fiction è composta da otto episodi che saranno trasmessi a due a due, per un totale di quattro appuntamenti. La puntata finale è prevista per il primo marzo 2022. La serie, per quanto riguarda le riprese in esterno, è stata girata nel luogo in cui è ambientata, a Ferrara. Come riporta TV Blog il set è stato allestito nei pressi della chiesa di Santo Stefano. Le scene in interno, invece, sono state girate a Roma. Lea Un Nuovo Giorno, cast e curiosità. I protagonisti principali di Lea Un Nuovo Giorno sono Anna Valle e Giorgio Pasotti, che vestono i panni rispettivamente di Lea Castelli e di Marco Colomba. Mehmet Gunsure e Leonora Giovanardi interpretano Arturo Minerva e Anna Galgano. Le colleghe di Lea hanno il volto di Daniela Morozzi, Manuela Ventura, Marina Crialesi e Rauzi Giangaré nel ruolo, nell'ordine, di Rosa, Favilla, Olga e Michela. Tra gli altri attori che hanno preso parte alla serie troviamo Gerry Mastro Domenico e Primo Reggiani. La fiction è stata presentata a Sanremo 2022 dalla stessa Anna Valle lo scorso 3 febbraio 2022. Si tratta di una delle tre serie televisive lanciate in Rai questa settimana. Domenica 6 febbraio 2022 ha debuttato L'Amica Geniale 3 mentre ieri, 7 febbraio 2022, è stato il turno della seconda stagione di Macari. La storia è stata presentata a Sanremo 2022. 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 Grazie a tutti.